Basta guardare il delirio che c'è in casa del PD, dove Renzi, che è arrivato grazie alle primarie, ha detto basta con queste primarie, sta cercando i colpevoli al suo interno, probabilmente dovrebbe farsi un esame di coscienza su quello che non è riuscito a fare o non ha voluto fare. Noi siamo pronti, stiamo preparando progetti, uomini, donne, per sfidare Renzi e andare al governo.